Nessuna casa degli orrori, i nostri anziani erano trattati con umanità. A far sentire alla propria voce uno dei familiari degli anziani ospitati nella casa di riposo di Stiocilento, sottoposta nei giorni scorsi a sequestro preventivo disposto dalla procura di Vallo della Lucania. E' aberrante, denuncia i familiari degli anziani ospitati, il blitz è stato fatto senza preavviso e sono stati prelevati anche gli oggetti degli anziani. Nei giorni scorsi, infatti, è avvenuto il blitz dei carabinieri in quanto il gestore della struttura dovrà rispondere dei reati di abbandono di persone incapaci e di inosservanza dell'ordinanza di immediata cessazione dell'attività emessa dal piano di zona competente. Io non entro nel merito assolutamente perché effettivamente se la casa di cura non aveva l'autorizzazione e non aveva le infrastrutture, non aveva tutto quello che bisognava per delle persone anziane, io di questo non nulla questio. Mi stranisce solo il fatto che questa è una struttura aperta da 5-6 anni e adesso esce fuori questo fatto, lo sapevano un po' tutti. Io voglio precisare che in questa struttura, per quanto non fosse una struttura con l'autorizzazione, però è una struttura dove le persone lì dentro, pur non avendo forse la carta scritta, hanno avuto umanità, hanno trattato benissimo i nostri anziani. Mia madre, che la tengo lì dentro da circa un anno, era ringiovanita. mia madre proprio curata bene e mangiavano per bene, quindi veramente le chiamavano le nostre nonnine. Sono a casa degli orrori. Assolutamente, assolutamente, è aberrante questo. Io voglio precisare solamente una cosa, da quel momento in poi loro e i proprietari ci avevano effettivamente garantito che avrebbero provveduto a chiedere al TAR e chiedere le autorizzazioni per potersi mettere a norma. Cerco di essere quanto più conciso e allora parto direttamente a 20 giorni fa. 20 giorni fa io vengo chiamato dall'assistente sociale, che è una gran brava persona, la quale mi dice, si organizzata mercoledì prossimo, quindi il venerdì precedente, ci dovremmo vedere alla casa di cura di Goro, perché deve chiudere. Io ho detto, va bene, mercoledì verrò alle 4 e mezza lì. Il TAR, sul TAR, dopo pomeriggio, ricevo ulteriore telefonata dall'assistente, la quale mi dice, signor Galietta, soprassediamo, in quanto i titolari della struttura hanno garantito di spostare, e chiederanno l'autorizzazione anche a voi, di spostare gli anziani in un'altra adeguata struttura per mettersi a norma nella struttura di Gorga di Stio. Per la verità le hanno portate a una casa vacanze, questo è vero, però diciamo che in quella casa vacanze, un po' come era Gorga di Stio, più o meno era la stessa cosa, quindi è trattato lo stesso bene. Io poi andavo a trovare mia madre tre volte a settimana, quindi non andavo neanche agli stessi orari, non andavo a trovare, tipo quello che va a trovare l'amante, che si fa trovare bella, e poi semmai non è sistemata, no, per vedere proprio in orari, anche diversi, se sempre venivano a Gorga di Stio, li trovavo trattati bene, e Gorga di Stio erano l'eccellenza per come li trattavano. Dire anziani abbandonati è un po' un termine forte. Assolutamente, assolutamente. Dio mi sia testimone, venivano trattati alla grande, pur non avendo le carte scritte, le competenze professionali. Queste sono mai bussate con professionalità e maggiormente con grande, grande umanità, quello che interessava. Il giorno, martedì, siamo alla conclusione, io intorno alle 13.25 ricevo telefonata dall'assistente sociale, la quale mi dice, stavo pranzando, mi dice, Sior Galietta, stiamo trasportando vostra madre all'ospedale di Agropoli. Ma io in primo momento pensavo che fosse un addetta della struttura, invece poi, sin dì, assistente sociale, dicono, scusate, ma voi cosa fate lì? No, no, qui stiamo, ci sono i NAS, ci sono l'addetto del procuratore, il delegato, stiamo chiudendo tutto. Io anche ho detto, non vi azzardate a portare mia madre all'ospedale, perché io denuncio tutti, perché io sono il figlio, devo venire, devo essere responsabile, io perciò l'ho chiamata. Vado lì e mi sento dire che mia madre doveva andare, perché mia madre poi deve andare all'ospedale, non deve andare all'ospedale perché sua madre è allettata. Ok, io ho detto, guardi, dottoressa, alla dottoressa dell'Asle, mia madre non è allettata. Lei mi ha detto sì, dico, e perché secondo lei è allettata? Mia madre non è autonoma, è ben cosa diversa, usa i pannoloni. No, 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 è allettata perché io sono andata su, era coricata, ho chiesto di scendere, e mia madre, vostra madre, mi ha risposto, ho freddo e non voglio scendere. Quindi implicitamente vi ha risposto che mia madre non è allettata. Comunque, all'insistenza, non ho dato peso, ho detto, va bene, portiamo all'ospedale di Agropoli, vuol dire che si farà anche un check-up, e poi io provvederò a trovare la struttura adeguata per. E di fatti il sabato, dopo una settimana travagliata di ospedale, tra Agropoli, Vallo e tutto, io l'ho portata alla struttura di Felitto, contentissimo, una struttura all'avanguardia, su questo lì, ecco, diciamo, molto professionale, infermieri, medici, tutti, quindi sono contento di averla portata a questa nuova struttura. Consente una struttura diversa da quella di Stio. Sicuramente diversa da quella di Stio, però io ho voluto dare merito anche a chi ha fatto le cose. Loro non avevano assolutamente la casa di Stio, non avevano l'autorizzazione, d'accordo, io non entro nel merito assolutamente, io sono per la legge, sono per la legalità, però voglio dire, a conclusione della cosa, il martedì, io ho avvisato a 1.25, di corsa sotto una pioggia a arrivare lì, i vecchietti stavano tutti a Magliano Vetere, la struttura era vuota a Gorgadistio, dico io, potevamo avere avvisati un po' prima, nella struttura di Gorgadistio, tra l'altro, legittimamente hanno dovuto sigillare, hanno dovuto sequestrare, e guarda caso lì dentro hanno sequestrato un po' tutto, gli abiti, ho dovuto fare istanza al procuratore della Repubblica per avere gli effetti personali di mia madre, e la cosa più che mi fa stare triste, è che io quando, e chiudo, quando mia madre cinque anni fa si è operata di femore, io gli ho regalato un Gesù Cristo così grande, preso al santuario di Novivelia, e mia madre in questa settimana sempre a dire, portami il mio Gesù Cristo, portami il mio angelo custode, e guarda caso hanno sequestrato anche il suo Gesù Cristo nella struttura. Ecco, voglio dire, ecco, avremmo, non succedeva nulla se noi fossimo stati avvisati prima, io capisco che quando si fanno i blitz bisogna farli così, velocemente, ma novantenni, bisognava, dicevo, stavano lì, quindi erano due cose distinte e separate, e quindi lì a Gorga, a Piano, a Magliano-Vetere, potevano sequestrare subito, ci potevano dare l'occasione di prendere, adesso dobbiamo attendere, ho dovuto comprare tanti altri indumenti, ho dovuto comprare le medicine, tutte queste cose, va bene, non fa niente, vuol dire che, però il mio intervento voleva significare questo, assolutamente, io ho letto i giornali, ho sentito la casa di cura di Gorga di Stio, vi posso assicurare, perché se qualcuno dice, casa è così, che venivano trattati male, in un certo senso offende anche la dignità di me, che sono figlio, oppure degli altri responsabili, perché noi siamo stati, fino a che chiude, sono stato chiamato due volte alla caserma dei Carabinieri, una prima volta a portare i documenti che ero il responsabile di mia madre, sempre su ordine della procura, e una seconda volta interrogato e messo a verbale dal maresciallo genovese, il quale ha voluto sapere da me come venivano trattati lì dentro, e quello che ho detto adesso l'ho ripetuto anche alla caserma dei Carabinieri, era solo questo, per coscienza, non erano autorizzati, non avevano la struttura idonea, ma erano delle persone molto molto umane.